Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video di Uncome. Oggi parleremo di come rafforzare le braccia senza fare acrobazie. È molto importante avere forza nelle braccia per essere in grado di eseguire tutti gli esercizi nel palo, come inversioni o giri. Quindi ti daremo alcuni consigli per rafforzare e per il riscaldamento delle braccia. Concentreremo l'esercizio per rafforzare le braccia nella zona delle spalle e dei bicipiti. Avviciniamoci al palo e afferriamolo più o meno all'altezza della nostra spalla. Da qui, mettiamo l'altra mano sul fianco e facciamo forza con gli addominali. Dobbiamo rimanere totalmente rigidi e non lasciarci cadere. Da qui, stiriamo il braccio, pieghiamo il gomito e torniamo alla posizione iniziale. E ripetiamo. Se vogliamo aumentare l'intensità dell'esercizio è molto semplice. Dobbiamo solo avvicinare i nostri piedi al palo. Facciamo forza con gli addominali. Portiamo le spalle all'indietro e cominciamo. Ricorda di rimanere rigido, non lasciarti mai cadere. Puoi farne fino a 10 o 15 ripetizioni e poi cambiare il braccio. Un altro muscolo importante su cui dobbiamo lavorare è il precipite. Ci metteremo in questa posizione. Noi due vi mostreremo l'azione un po' più complicata. E lei vi mostrerà la versione più semplice. La differenza è la distanza tra il corpo e il palo. Più si è lontani, più sarà difficile. Portiamo la mano destra in alto e la mano sinistra in basso. Stringiamo glutei ed addominali per fare flessioni. Stendiamo bene i gomiti, facciamo 5 ripetizioni e cambiamo lato. Ora alterniamo le braccia. Aumentiamo un po' l'intensità. Se sei abbastanza forte e sopporti circa 15 ripetizioni di fila per ogni lato, ora prova con una sola mano. Opzione facile, più vicino al palo. Opzione difficile, più lontani. Appoggiamo l'altra mano sulla vita o dietro la schiena. Eseguiamo dunque 5 flessioni. Se vuoi aumentare più intensità, usiamo pliometria, cioè un incremento di forza. E ora cambiamo mano ed altre 5 ripetizioni. Soprattutto ricorda di mantenere il corpo da rigido e stringere il sedere ed alternare le braccia. Ed eccoci giunti alla fine del video di oggi. Se ti è piaciuto e vuoi saperne di più, non dimenticare di mettere like ed iscriverti al canale. Alla prossima!